Contentissimo di ritrovarvi per meditare insieme il Vangelo e per contemplarlo nella storia dell'arte. Un Vangelo che questa domenica è la prosecuzione di quello della domenica scorsa. Avevamo lasciato Gesù nella sinagoga di Nazareth, oggi Lui commenta la lettura, perciò è così emozionante ogni volta che commentiamo la parola di Dio perché è Gesù stesso il primo che commenta la parola di Dio. Adesso ascoltiamo questo Vangelo, ma io vi lascio una domanda. Gesù, quando commenta il Vangelo, cita due episodi dell'Antico Testamento. Qual è il punto in comune di questi due episodi? Ascoltiamo questo Vangelo. In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano Non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro Certamente voi mi citerete questo proverbio Medico, cura te stesso Quanto abbiamo dito che accadde a Cafarnau, fallo anche qui, nella tua patria Poi aggiunse In verità io vi dico Nessun profeta è bene accetto nella sua patria Anzi, in verità io vi dico C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia Quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi E ci fu una grande carestia in tutto il paese Ma a nessuna di esse fu mandato Elia Se non a una vedova di Sarepta di Sidone C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo Ma nessuno di loro fu purificato Se non Naaman, il Siro All'udire queste cose Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno Si alzarono E lo cacciarono fuori dalla città Lo condussero fin sul ciglio del monte Sul quale era costruita la loro città Per gettarlo giù Ma egli Passando in mezzo a loro Si mise in cammino Il Vangelo di questa domenica È in realtà soltanto la seconda parte Di un episodio più completo La prima parte di questo episodio L'abbiamo ascoltato la domenica scorsa Era il Vangelo della domenica scorsa E, penso, ricordate tutti Ci troviamo nella sinagoga di Nazareth Lì dove Gesù è cresciuto E Gesù ha letto un brano del profeta Isaia Che annuncia l'anno giubilare Poi depone il rotolo E, diceva il testo del Vangelo della domenica scorsa Concludeva più o meno con queste battute Diceva Gli sguardi di tutti Erano concentrati su di lui Perché? Perché ci si aspetta adesso il grande insegnamento Adesso, come ogni rabbi Come ogni lettore della parola Aggiungerà un insegnamento Tutti che aspettano delle parole Cosa dice Gesù? Oggi si è adempiuta questa scrittura Dicendo così Sta dicendo che lui non aggiungerà nessuna parola Ma sta anche dicendo che Il compimento di questo testo di Isaia Dell'annuncio del ritorno dall'esilio Dell'annuncio della liberazione Della pace Dell'anno giubilare Della cancellazione dei debiti Della guarigione La realizzazione di tutto questo È oggi Cioè È lui Il testo chiaramente pone Gesù Come il compimento Di tutte le scritture di Israele In altre parole Il cristianesimo Non ha nient'altro da dire Se non Gesù Ma al tempo stesso Gesù È colui che fa sì che Tutto il resto parla Tutto parla nella nostra vita Quando prendiamo A guardare le cose Con questo nuovo angolo Gesù Con questa nuova prospettiva Gesù Tutto parla a cominciare Dalle scritture di Israele Quando Gesù dice Oggi si è compiuto Questa scrittura E il testo dice Che avete ascoltato Con le vostre orecchie In realtà Il testo greco Dice Oggi si è compiuto Nelle vostre orecchie Per voi Questa scrittura Vuol dire che Fino adesso Non avevate mai capito Ancora pienamente La sacra scrittura Adesso Con Gesù Voi capite Il senso profondo Di ogni parola Di ogni parola Della vostra tradizione Di ogni parola del mondo Tutto parla In modo diverso Questo contesto In realtà È il contesto Che vivevano I primi cristiani Nelle prime generazioni Proprio all'epoca Dell'evangelista Luca Quello che facevano Nelle sinagoge Era questo Dopo Dopo Aver letto La scrittura Dicevano Per noi Chi realizza tutto questo Chi compie tutto questo È Gesù Questo è l'annuncio Dei primi cristiani Allora Questo testo Pone Gesù Come se facesse già Quello che poi I coetani Di Luca Facevano Anzi Mette in scena Questo conflitto Perché lì C'è il conflitto Dire che Gesù È il compimento Di tutta la scrittura Fa problema E alla fine Del brano Che abbiamo ascoltato oggi Del Vangelo di questa domenica Gesù sarà cacciato Cacciato via Dalla sinagoga Così come I coetani di Luca Sono stati cacciati Dalle sinagoga Questo racconto Pone in scena Nella vita di Gesù Quello che era L'esperienza Della comunità cristiana Della seconda generazione La separazione Dalla sinagoga E in realtà All'epoca di Luca Probabilmente Già quasi tutti i cristiani Avevano lasciato La sinagoga E questo testo Ha come scopo Di dire A quella generazione Di cristiani Che ormai Celebra Nelle proprie case Non celebra Più nelle sinagoga Dire da dove veniamo Noi veniamo Dalla sinagoga Noi di per sé Quello che facciamo Nelle case Dovremmo farlo Di per sé Nelle sinagoga Ecco Non è più possibile farlo Ma Facciamo come Se fossimo In sinagoga Di fronte a questa Affermazione di Gesù Oggi si è compiuto La reazione È Stupenda All'inizio Un'enumerazione Di cose belle Tutti Li rendevano Testimonianza Erano meravigliati Delle sue parole Di grazia Che uscivano Dalla sua bocca Sembra un'enumerazione Di adesione Al messaggio di Gesù Ma è un'enumerazione Stranissima Perché prepara Una doccia fredda Improvvisamente Nella stessa frase Ma Dicevano Non è Il figlio di Giuseppe È come quando Noi diciamo Una persona E questa persona È brava Bella Generosa Purtroppo È così E cosà Caduta Tonfo E Gesù Legge Dentro ai cuori Il perché Questo rifiuto Con queste parole Non è il figlio Di Giuseppe Che cosa c'è Dietro a questo Dietro a questo Ci sono due cose Almeno La prima La prima è dire Ma Se è uno di noi Come può essere Il profeta Come può essere Il compimento Della scrittura Il messia Non è possibile Troppo Troppo bello Per essere vero Troppo di casa Lo conosciamo Il figlio di Giuseppe Ci può essere questo Ma ci può essere Anche un altro motivo Perché Questo Questa frase Non è il figlio di Giuseppe È in realtà Un rifiutare L'annuncio di Gesù Questo motivo Può essere Il dire Ma allora Se sei qua di casa Ma Ci è andata bene Abbiamo sentito Che hai fatto Delle cose fuori A Cafarnao Hai aiutato Tante persone Hai guarito Fallo anche da noi Anche di più Noi vogliamo essere I raccomandati Quelli della tua famiglia Ed è lì Che Gesù Corregge Il tiro E dice Di certo Voi mi citerete Il proverbio Medico Cura te stesso Il medico Cura te stesso Sta a descrivere Il sentimento Degli ascoltatori Che dicono Ma se tu Sei qua Di Nazareth Dovresti Aiutare Aiutare noi La tua famiglia Il medico Aiuta Prima di tutto Se stesso Non andare A quelli di fuori Quelli di Cafarnao E sapientemente Gesù pone un parallelo Cioè Usa A questo sentimento Un po' Di sdegno Di questi Suoi Concittadini Un po' Di pretesa Di questi Suoi Concittadini Li usa Come una catechesi Per uno sdegno Ancora più forte Che stava Che stava già accadendo All'epoca di Gesù E che accadrà ancora In modo più forte All'epoca In cui Luca scrive E cioè Lo sdegno Contro Quello che si fa Per i pagani Per i lontani Per quelli che non sono Di casa E infatti Lui dice Nessun profeta È ben accetto In patria E pone così Due paralleli Due Esempi La vedova di Sarepta E Naaman il Siro Due pagani Salvati Già nell'Antico Testamento Per dire che La salvezza è per tutti E che per questo Lui si rivolge Ai lontani E che per questo La comunità cristiana Si rivolgerà Prima di tutto Ai lontani Ai pagani E tra l'altro Questi due esempi Della vedova di Sarepta E di Naaman il Siro Sono due casi Disperati La vedova di Sarepta È raccontato Nel libro dei Re Stava già Stava morendo Non aveva più nulla Aveva un po' di farina Poi e basta Doveva morire Naaman Un lebroso Vuol dire Un morto ambulante Due Disperati E sono proprio loro Che Dio Incontra Pagani Malati Si potrebbe dire In fin di vita Agli estremi Al tempo stesso Queste due Figure Dell'Antico Testamento Sono Per la comunità Di Luca Due Simboli Straordinari Dei due Sacramenti Fondamentali Della comunità Cristiana La vedova di Sarepta Prepara una focaccia È l'ultimo pane Il pane in cui ha dato tutto Simbolo dell'Eucarestia Naaman il Siro Le ha provate tutte E l'ultima cosa che prova Immersione nel Giordano E guarisce dalla lebra Simbolo del Battesimo Sono I due sacramenti Dunque è una catechesi Liturgica Liturgica Lo vogliono uccidere La passione La passione La crocifissione E poi Che passa in mezzo Dice il testo Alla fine La risurrezione La conclusione Di questo episodio È un accenno Già Alla fine Del Vangelo di Luca La Pasqua La morte È la risurrezione Per dire che I sacramenti La liturgia È l'attualizzazione Nella comunità cristiana Della Pasqua di Gesù E la tradizione iconografica Ha capito perfettamente Che c'è questo passaggio in mezzo Come vedremo Nel primo capolavoro Che contempliamo adesso Questi affreschi narrativi Che Luca ci presenta Nel suo Vangelo Hanno impattato fortemente La storia dell'arte cristiana Il primo esempio Che vi propongo È un affresco Preso da un grandissimo monastero Serbo-ortodosso In Kosovo Ed è la rappresentazione Di Gesù Nella sinagoga di Nazareth Mentre sta proprio leggendo Il libro Del profeta Isaia Infatti Vediamo che Questa architettura Della sinagoga di Nazareth Si apre verso noi spettatori Ed è come se noi Che stiamo guardando Questa scena Partecipassimo di questa scena Perché in effetti Stiamo Questa scena Questo affresco È dentro Una chiesa ortodossa Che ha Delle rassomiglianze Architettoniche Con quello che stiamo vedendo Dunque una sorta di specchio Tu che stai dentro Questa chiesa È come se tu stessi Nella sinagoga di Nazareth Ed è Gesù stesso Che ti sta proclamando La buona notizia Isaia 61 Che dicevamo È la grande notizia Del ritorno dall'esilio E dell'anno giubilare E non è un caso Allora se dietro a Gesù C'è questo arco Che è la porta È il passaggio È il simbolo Più pregnante Più denso Della Pasqua Il passare Attraverso la morte Verso la risurrezione Allora Noi tutti siamo Invitati A seguire Gesù In questo passaggio Lui che è la porta Lui che è la Pasqua E diventare parte Della sua Pasqua Vi voglio però Far vedere Una seconda opera Si tratta Della rappresentazione Di questo episodio Di Naman il Siro Che è uno dei due episodi Che Gesù cita Per spiegare Che cosa sta facendo Per spiegare Che cos'è la liturgia Che cosa è la sua presenza Vediamo Naman il Siro Dentro l'acqua Un uomo nudo Dentro l'acqua E Che cos'è quest'acqua L'immagine ce lo dice Jordanem E il fiume Giordano Perché Troviamo la storia di Naman Nel libro dei Re Un ufficiale Della Siria Molto ricco Ma con la lebra E soltanto perché Una sua schiava Le dice Vai a provare In Israele C'è questo profeta Eliseo Che ti potrebbe guarire Lui va lì E si fa dire Da Eliseo Guarda non devi pagare Niente È gratis Basta immergersi Sette volte Nel Giordano Sette volte Per l'ebreo Vuol dire La cifra Della creazione Dunque ci sarà Una nuova creazione Il Giordano È il confine Della terra promessa Dunque vuol dire Entrerai A far parte Delle promesse Di Israele In questa rappresentazione Però Ci sono tre raggi Che fuoriescono dal cielo Ed si vede la mano La mano divina Questi tre raggi Già nell'iconografia cristiana Simboleggiano la Trinità Ma non solo Ci sono tre personaggi Che stanno aspettando Naaman e il Siro Esattamente come Nelle rappresentazioni Del battesimo di Gesù Che cosa vuol dire? Che con il battesimo Di Naaman Con l'immersione Di Naaman Si vede già qualcosa Che succederà In pienezza Nel battesimo Di Gesù E nel battesimo Di ciascuno di noi L'ultima immagine La prendiamo Dai Paesi Bassi Dalla tradizione Fiamminga Roger Van der Weyden Qua In una pala D'altare Intitolata I Sette Sacramenti In cui vediamo Nel centro La Croce di Gesù E nei lati La rappresentazione Dei diversi Sacramenti Della Chiesa Cattolica Tre da una parte Tre dall'altra Possiamo distinguere Sulla destra L'unzione dei malati Per esempio Che è facilmente Riconoscibile Oppure il matrimonio Oppure Il Sacramento Dell'Ordine E sulla sinistra Abbiamo altri tre Sacramenti Ma nel centro Nel centro In fondo Abbiamo l'Eucaristia Abbiamo il sacerdote Che eleva L'Ostria Eucaristica Ma In primo piano Del centro C'è la croce Di Cristo Cioè La presenza Reale Di Cristo E questo È il messaggio Finale Cioè Ogni Sacramento È essere Alla presenza Di Cristo Crocifisso Ogni Sacramento È la realizzazione Oggi Di quella Parola Che si è letta O che Gesù Ha letto Nel profeta Isaia Allora Il mio invito Per voi In questi prossimi giorni È di stare molto attenti Ai sacramenti Se andate a messa Se andate a confessarvi Se sentite di un battesimo Di un matrimonio Lì c'è Il Cristo Lì siete Al Golgota Lì c'è L'amore infinito Ecco allora Vi invito a riscoprire La bellezza Dei nostri sacramenti Grazie a tutti